Ma è una balena quella! Stiamo vivendo tempi strani Oh, oh, guarda! Ma non credo sia legale fare una cosa del... Oh! Disister X è l'Anti-One Show! Hey Warriors! What's up, my name is... E siamo nuovamente qui per trovare tutto un prossimo video che play, serie eccetera eccetera Che è Desonored! Il Desonorato Quindi avevo detto che avrei iniziato questa, diciamo, serie perché il gioco mi interessa veramente tanto Diciamo, ho visto recensioni e altro È veramente, veramente fantastico E quindi iniziamo questa nuova entusiasmante partita Con questo nuovo look, mi sono dato un po' una sistemata barba, capelli eccetera Quindi... Proprio per questo motivo iniziamo una nuova entusiasmantissima partita E facciamo facile, normale, difficile Molto difficile Facciamo... Molto difficile Mh... Questo sarà... Eh... Se, non ho fatto nessuna partita, quindi creiamo una nuova partita Questo sarà tipo il primo gioco in cui... Prendo la difficoltà più di... Ah no no! C'è anche Minecraft in difficoltà difficile Torchetta 2 su Game Tellers A difficoltà massima Teranno ovviamente per il fatto che Se muoio non è che finisce tutto Andiamo a questa qui Se solo ci fosse stato qualcun altro di cui fidarsi Ti avrei tenuto vicino a me Ma purtroppo non c'era alternativa E il capospia ha fatto pressioni affinché mandassi te Bersheda Software presenter La peste ci sta decimando E dobbiamo trovare una cura Quando tu segui Mi sento in pace Ah, Anarche Studios Production E io conteremo i giorni fino al tuo ritorno Sì Fai in fretta E torna con buone notizie Ok Comunque ragazzi Anticipo che arriverà un trailerone breve Su Disney No Red Spero che venga qualcosa di figo Quanto quello di Romtotovora Vedremo Quindi più verrà avendo Grafica ovviamente al massimo Tranne per la sincronizzazione verticale Andiamo alla Dunwall Tower Lord Corvo deve riferire delle novità all'imperatrice Ovvio Tanta strada per contare cattive notizie Secondo i marinai siamo maledetti Magia nera What? Ma è una balena quella? Stiamo vivendo tempi strani Ah, oh, guarda Non credo sia legale fare una cosa Oh, ma non è legale È una balena Non potete metterla lì così Sì, quella è la balena Ah, cazzo Credo sia legale qui Ok Tantissimi Oh Wow Mi ricorda molto Tipo le immagini di Bioshock Infinite Wow Che ovviamente farò Perché anche quello Credo sarà Fighissimo Wow Comunque Molte persone dicono Che il gioco è brutto Perché ha una grafica di merda Ma What the Hell Cioè Non avrà Che non so L'anti-aliasing Che Non è esattamente Proprio una buona cosa Ma La direzione artistica È fantastica Dannazione Se non ha una grafica La batte Il filtreo alla Crysis Che cazzo Se ne frega Cioè Ma È Bellissimo Ok E poi il gioco È veramente Pavoloso Sì 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 La pressione Era bassa I nuovi macchinari Sono più sensibili Oh Sensibile So che lo fa di nuovo Cambiato tutto E non conosciamo I limiti del sistema Quindi se do una botta Potrebbe esplodere tutto Perché non posso darci Una botta Allora Oh Salve Sua maestà Vi attende nel padiglione Oh Grazie Alfred Felice di rivedervi Grazie Te ti chiamerò Alfred Quindi Che E tu Che cazzo sei Dannazione Non parliamo di balene Per favore Come Giochiamo a nascondino Mamma sta parlando Con quel vecchio e cattivo Capo spia Oh Ok Quindi questa è tipo Nostra figlia O una cosa del genere Taddizione Va bene Dai Bene Andiamo Ok Vediamo di Muoverci Perché Quando non c'eri La mamma era triste Le mancava tanto Si Lascia Che dia Che dia Sta facendo un ritratto Ok 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 Non credo sia molto Realistico Come ritratto Va bene Ok Sì sì Arrivo Arrivo Su E poi buttartici Ok Infanticidio Vediamo se sei ancora bravo Io mi copro gli occhi E conto Quando ho finito Ti vengo Oh quindi Sono io che devo Nascondervi Tieni Tieni Per la modalità Furtiva Ok Quindi Posso Posso salire Tipo Lì Uno Due Tre Quattro No Cinque Cinque Sette Otto Nove Dieci Sto arrivando Cerca Bambina Cerca Non mi vedrai mai Sei qui No Direi no 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 Mi spiace Oh tanzione Mi ha quasi visto No Oh caccio No 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 Non guardarmi Non guardarmi Hai vinto Va bene Ora andiamo Così anche mamma Può Piccola bambina Spassica Seria Obiettivo raggiunto Yeeey Oh che c'è qui C'è qualcosa qui C'è C'è qualcosa di Ok Torno Di là Dannazione Ok Maledetta Bambina Mi hai fatto Perdere Minuti Preziosi Solo per Farmi vedere Come nascondermi Ovvio Che ti vuole Spaventare Una Bambina Come Vabbè Il lord Capospie Con lei Ma Ha detto Di farvi Entrare Ovvio Io sono Corvo Chiunque Io sia E Sono Bentornato Lord Protettore Sono il lord Protettore Ecco che Sono Dannazione Da tua Madre Ah Oh Questo è un alto Sacerdote Infatti È più Un Deretano Sì Campbell Mi dispiace Ma è più simile A un Deretano Non lo vedo Non lo vedi Sì È molto simile A un Deretano E io Ruberò Il tuo Drink Non riesco A lavorare Se vengo Distratto Posso rubare Il ritratto Posso Tipo Distru... Ok Ok Non posso fare Niente Vi riceverà Subito Ok Grazie E tu sei Giacunov Sì lo so Sono troppo Oh Hello Oh Una Cameriera Si adora la Cameriera Ok Ok Andiamo Hai capito Ne abbiamo già parlato Sono Sono miei Sudditi Se sarà possibile Li salveremo Dalla peste Tutti Yeah Molto bene Non intendo Discuterne Più Sorprenderci Come sempre Non mi fido Delle tue Sopracciglia A mento Si hai Delle Sopracciglia A mento Dannazione Hai un mento Sul mento Ok Seguimi capitano Lasciamoli Da soli Come Dannazione Mai fidarsi Di un uomo pelato Bianco pallido E con un mento Sul mento Non fidarsi mai Che notizie mi porti Ha Ha una lettera Se porto una lettera Lo sapevo L'avevo intuito Conta l'imparatrice Nel gazebo Ah Fatto Ah Speravo che un'altra città Avesse già subito il contagio E conoscessi una Non sono Buone notizie Immagino Ah ok Pessimo Ah Dannazione Ho passato Ore Giorni Per Aspetteranno che la peste Trasformi la città In un cilatera Per portarti un foglio E tu Ti atterra Così Ah Non preoccuparti tesoro La mamma sta bene D'addio proprio Dove sono le guardie Chi le ha Donutissimo Dove Oh porca Premi Sinistro per attaccare Con la mano destra Oppure Per attaccare Con il senso Se ha un'arma Ha un potere equipaggiato Oh Oh yeah Bitch Tiene conto Il senso Per bloccare Gli attacchi Con la spazio Effettuata Contempismo Questa mossa Sbilancerà I nemici E gli esporrà Un contrattacco Oh Oh yeah Sì Take this Shit Dove Oh Oh Take this Bitches Yeah Like a mosh Corvo Grazie Se tu non Niente Sono Oh porca puttana Oh 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 Edda Oh 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 è una Ok niente Aprivenza Sono andato Dietro Oh porca puttana Oh che schifo Oh Anche la bambina No Oh Oh Dannazione Maledetto Essere in fame No Regina No Corvo Tutto Vai in pezzi Trova Trova Imi Proteggila Sì Tu puoi farlo Sai cosa fare Promettila Corvo Ok Lo prometto Sulla Ok Ti amo Ok Sì Ah non c'è Sotto Guardate cosa ha fatto What Sì Ha ucciso Ah maledetto Pelato Schifoso Io Prenderò il mento La sua guardia del corpo Assurdo Sarai giustiziato Per questo corvo Prenderò No No Ci provo Ok Adagnazione Dishonored Ah maledetto Bastardo Bastardo Li prenderemo il mento Nel prossimo episodio Ciao a tutti Bravo Sorax 91 Aventura 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 Grazie.